benvenuti amici cari in deuterio sbusta pokemon gay test froci del cazzo e ondicappati falliti di merda che guardate sto video del cazzo del fachitaco oggi sono con mia sorella saluta ciao e oggi andrà a sbustare 10 bustine di falliti di merda pokemon dai muoviti premi apri 10 buste perché sennò non funziona la magia no aspetta scusa scegli prima la bustina perfetto era semplice apri 10 buste paga tutto quello che ti serve soldi veri ho perso 10 mila euro in banca olè e ora puoi aprire taglia taglia il mazzo in tanti massi olè e ora devi elencarli tutti no devi elencarli tutti peggio lo pronunci meglio è peggio lo pronunci meglio è per noi magre maite ehi nuova magico electobats onyx ekans nido king tmita paras ehi incredibile la mia prima immersive negri.com ma che bello entri nella casa quanti fps ha ne ha due perchè ha due fps oh c'è il cater più appeso all'albero i due nidoran che fanno sesso i butterfru che volano liberi poliwag che sta cacando pj che va a rubare il pisello a pikachu non ce n'era solo uno ma che cazzo dici quelli sono i leggendari perfetto questa è nuova andiamo avanti il pedofilo brock brock è buono lo uso nel mazzo onyx quello grasso durissimo esatto berrò del tè in tanto così si trovi qualcosa di bello sputo tutto oh mio dio hitmore hitler jodule ehi arcanine sex ma ce l'avevo già quindi non è nuova però però è comunque sex tabuol che carina è mio nonno snum 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 sidra dodo ma sono tipo degli arancini è vero oh ma no ehi mi mancava oh 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 aspetta aspetta no penso fosse un god pack cioè tutte sono belle però mi sa ce ne sono solo due nuova ok squirtle e anche l'ultima dodo pittilil che carina io ho rischiato il god pack niente che vuol dire cura questo pokemon da dieci anni se è ferito si cura di dieci ah da dieci danni ho letto da dieci anni non capisco è in dieci è tipo ehi ce l'avevo già è tipo la detrazione fiscale cioè in dieci anni ti arriva ti arriva la cura però spalmata su dieci anni non tutta insieme helix fossil com'è allenatore è una carta strumento caterpie che faccio da pesce adesso locotenant surge ah ma è locotenant si io sin da quando ero piccolo no l'ho sempre chiamato si legge lieutenant ma io l'ho sempre chiamato lt surge basta lt surge lt surge nella mia testa è così è sempre stato lt surge effettivamente è un militare quindi che bella questa grazie ehi nuova nido era un femmine maschio che cazzo dici era un maschio ma io li ho invertiti quello di prima ah si non me ne ero reso con cincino che carino da prendere a schiaffi fare l'ola si ci sono proprio delle delle mosse che non hanno senso bene ora che abbiamo il sesso frizzante nella casa via nello basta è finito il video grazie 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 a tutti